Come Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale non siamo abituati a valutare i provvedimenti sulla base delle slide o degli slogan buoni per le conferenze stampa. Valutiamo sulla base dei testi e aspetteremo di leggere quei testi. Speriamo ci siano delle coperture che ad oggi ci sembrano aleatorie o addirittura preoccupanti, come quando dicono che mettono 80 euro in busta paga ma che tolgono 65 euro dalle detrazioni per i coniugi a carico. Valuteremo il merito, speriamo che gli italiani non si accorgano troppo tardi che i soldi non c'erano.